16 grandi illustratori italiani a raccontare i valori europei, i valori fondanti dell'Unione Europea e dell'Europa dei Popoli. Allora, oggi a Torino, in Piazza San Carlo e in Via Po, abbiamo una narrazione silenziosa, la narrazione fatta da giovani illustratori che senza parole, solo con immagini, riescono a parlare a chiunque. E quindi i nostri valori, i valori della libertà, della democrazia, della pace, dello Stato di diritto, della dignità e del rispetto dei diritti umani, ma anche la cultura, la scienza, tutto ciò che è stata Europa. Immagini che riescono a cogliere l'essenza delle cose, immagini che riescono a essere multiculturali, immagini che possono essere il futuro della nostra Europa e il nostro ruolo nel mondo.